Le nuove pellicole protettive per schermo Fellows Visi Screen garantiscono la massima resistenza ai graffi, pur mantenendo la sensibilità del touchscreen. Costituite da una sottile pellicola trasparente, esercitano una protezione efficace contro graffi, impronte digitali e segni. Grazie alla tecnologia anti-bolle Fellows, l'applicazione è semplice, così come la rimozione, che non lascia alcun segno o residuo indesiderato. Scegli tra un'ampia gamma di formati adatti alla maggior parte dei modelli di tablet e smartphone e proteggi il tuo dispositivo mobile con un protettore per schermo Fellows Visi Screen.